No, non direi, no. Per tua informazione, gli orchi hanno dentro più cose di quanto uno creda. Per esempio? Per esempio? Va bene, eh... I orchi sono come le cipolle. Puzzano? Sì. No! Ah, ti fanno piangere? No! Ah, vi lascia il sole, diventano marroni e poi spuntano i peletti bianchi? No! Strati! Le cipolle hanno gli strati, gli orchi hanno gli strati, le cipolle hanno gli strati. Capito? No, tutti e due abbiamo gli strati. Ah, tutti e due avete gli strati. Sai, non a tutti piacciono le cipolle. Torte! A tutti piacciono le torte, le torte hanno gli strati. Non mi interessa. Che cosa piace a tutti? Gli orchi non sono come le torte. Sai cos'altro piace a tutti? Le lasagne. Hai mai conosciuto qualcuno a cui dici, Ehi, prendiamo le lasagne e lui risponde, Non mi piacciono le lasagne, le lasagne sono squisite. No! Ottusa, irritante, bestia da soma in miniatura. Gli orchi sono come le cipolle. Fine della storia. Vaci, vaci. Ci vediamo? Quattro Quattro